Un semplice controllo che ha permesso di scoprire una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana. Succede a Groppello dove i carabinieri nella serata del 20 aprile hanno fermato un'auto con a bordo tre giovani, una ragazza di 21 anni di zerbolò e due 23 anni che abitano in paese, tutti con precedenti. Mentre i militari stavano compilando il verbale, visto che i ragazzi non avevano rispettato le disposizioni per l'emergenza coronavirus, sul luogo del controllo è arrivato anche un 31enne di Groppello, a sua volta fermato. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale, aveva con sé qualche grammo di marijuana e alcune banconote di piccolo taglio. Per questo motivo i carabinieri hanno fatto scattare anche una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del 31enne gli uomini dell'arma hanno scoperto l'esistenza di una serra per la coltivazione della droga. All'interno c'erano 49 piante di marijuana di diversa altezza, 500 grammi di sostanza già divise in dosi, 480 euro in contanti e diverso materiale per il taglio e il confezionamento. Il 31enne e il padre 55enne, anche lui già noto alle forze dell'ordine, sono stati quindi denunciati a piede libero con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I tre ragazzi, fermati durante il controllo, dovranno invece pagare le multe per il mancato rispetto delle regole per il contenimento del coronavirus.